Salve, sono il dottor Robin Andiamo! Ciao bambini, ciao! Guardate dove sono! Sono in un negozio di giocattoli Perché è Halloween E dobbiamo trovare una maschera più spaventosa del mondo Questo è un negozio perfetto Pieno di maschere scary Siete pronti? Andiamo! Venite! Ciao! 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 Stiamo cercando una maschera di Halloween Ne avete? Anche lì in fondo, guarda Grazie! Che te diavo! Wow! Non zaino di Spiderman! Oh la Nerf! Guardate! E poi abbiamo il camion, il camion della posta Abbiamo la Jeep E il camion del Rusco Wow! Guardate lo spazzaneve! Guardate che bello lo spazzaneve! Guardate! Il trattore blu! Wow! Io prenderei tutto a casa Guardate il camion! Il caterpillar! Wow! Andiamo! Wow! Wow! Andiamo! Come essendo! Wow! Andiamo per la tutela! produção di un raffodし! Bravo! Oh, siamo nel reparto dinosauri! Jurassic World ciao che male guardate i raptor poi abbiamo il saurus guardate che belli abbiamo il reparto robot e il reparto Lego Lego Star Wars guardate che bello io ho sempre voluto Star Wars guardate guarda il piccolo Yoda e poi abbiamo Lego City abbiamo la stazione di polizia poi abbiamo i pompieri wow mi sa che ci stiamo perdendo ma noi dobbiamo andare a prendere le maschere andiamo wow bambini siamo arrivati nel reparto delle maschere ma quante ce ne sono venite boom sono molto spaventose ora dobbiamo iniziare a trovare quella che fa per noi pronti pronti co maschera numero uno sono un vampiro maschera numero 2 oggi sono un diavolo sono uno spaventapasseri devo stare fermo e appena qualcuno arriva vicino bambini sono una scemi sono Scream e stanotte vi farò urlare ciao bambini vi piacciono i palloncini bambini ma avete visto quante maschere io spero non vi siate presi paura ma sono solo maschere per halloween allora io vi saluto con la mia amica zucca ci vediamo il prossimo video ma mi raccomando cliccate mi piace iscrivetevi al canale che è molto molto importante e ci vediamo il prossimo video ciao 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 ciao